Cari connazionali, auguro a tutti voi una buona festa della Repubblica. Ovunque voi siate nel mondo, lì dove portate alto il nome dell'Italia, con la tenacia del vostro esempio e la forza dei nostri valori. È un 2 giugno che cade in un momento molto delicato del quadro internazionale, dove sfide globali, determinanti per il futuro di tutti, convivono con l'urgenza di conflitti e crisi, dove siamo in prima linea con un forte messaggio di pace. L'impegno del Governo è forte. Oggi si guarda l'Italia come ad un attore di stabilità e di crescita. Nel G7, che quest'anno abbiamo l'onore e la responsabilità di guidare, in Europa, dove anche nella prossima legislatura continueremo a lavorare ogni giorno per il benessere di cittadini ed imprese, la prima priorità siete sempre voi e la vostra sicurezza. Dedichiamo a ciascuno di voi la massima attenzione. Avrete sempre, cittadini e imprese, un punto di riferimento nelle nostre ambasciate e nei nostri consolati. Anche io per tanti anni sono stato un cittadino italiano all'estero. Conosco il vostro impegno, conosco l'orgoglio con il quale portate nel mondo il nome dell'Italia. È questa la nostra forza, la forza della nostra cultura, dei nostri territori e del saper fare italiano, dei quali il successo del nostro export è uno straordinario interprete. Siete voi i migliori ambasciatori dell'Italia. Buona festa nazionale, viva l'Italia!